La coalizione Uniti per Fano si sta ricompattando. Se in questi giorni niente pareva essere escluso, nemmeno una possibile corsa delle liste in solitaria, ipotesi improbabile ma illustrata anche dal sindaco Aguzzi, ora lo scenario si fa più chiaro. Dopo la riunione di ieri sera a cui hanno preso parte gli esponenti dei diversi partiti che ne facevano parte, tranne la rinascita di Fano, prima Fano e ovviamente il nuovo centrodestra, c'è il nome di un candidato appoggiato da tutta la coalizione, ovvero quello di Davide Del Vecchio. A sostenerlo sono la lista La Tua Fano, l'Udc, Fratelli d'Italia, ma anche i pensionati repubblicani e Fanun Fortune. Sull'appoggio di Forza Italia, che in questi giorni è stata una delle incognite più discusse, ha parlato il coordinatore provinciale Bettini, ricordando che Forza Italia non è mai uscita dalla coalizione. Ad assicurare il suo appoggio alla candidatura di Del Vecchio è stata anche la vice sindaco Cucuzza, che in una nota congiunta con il candidato a sindaco, ha annunciato che reputa necessario, per senso di responsabilità, fare un passo indietro, assicurando il suo totale appoggio ed impegno nella campagna elettorale di Davide Del Vecchio. Collaboreremo strettamente per costituire un valido programma, detto la Cucuzza, ed anche per una forte coalizione che governi la città. Di questa mattina è invece la decisione della lista La Rinascita di Fano, che ha comunicato ufficialmente di voler sostenere Mirko Carloni. Intanto, nonostante il candidato sindaco di Prima Fano, Daniele Sanchioni, abbia manifestato la volontà di correre con la propria lista in solitaria alle prossime amministrative, sembrano esserci spinte dalla segreteria della lista per rimanere in coalizione. Se Prima Fano si unisse ad Uniti per Fano, la coalizione si ritroverebbe di nuovo unita, seppure con la perdita del nuovo centrodestra e della rinascita di Fano.